è un campionato due anni molto molto differente cioè mentalmente fisicamente abbiamo fatto 14 mesi molto bene se è stata una grande cosa eppure dato uno stimolo una tranquillità su di noi che sappiamo che quel lavoro che stiamo facendo è giusto poi ti trova un po di difficoltà però quello è calcio quello è normale per me durante i giorni quando non c'è la partita che il atteggiamento il modo di lavorare la voglia di lavorare è sempre uguale e c'è siamo sempre fa abbiamo sempre la fame ovvio che periodi così è un po più difficile svegliare di mattina però il calcio è la vita e proviamo anche mister sta dando tanto stimolo per rimbalzare subito per vedere a noi che siamo una grande squadra che più veloce che possiamo tornare al nostro livello più cresciuti senza tifosi c'è una grandissima differenza però adesso siamo abituato per giocare senza tifosi cioè secondo me a tornare con tifosi diventa una ancora una grande emozione anche se come io ho 30 31 anni che ho fatto tantissime partite sulla mia carriera quando inizia con le stadie piene e come forse la prima volta c'è quello è normale manchiamo sicuramente però è la reality adesso il modo che lavoriamo non cambiamo perché perde due partita allora continuiamo sulla strada sappiamo il lavoro che facciamo è giusto poi su un campionato durante un periodo normale trovare un po di difficoltà però siamo sereni stiamo lavorando abbiamo la confianza che siamo una grande squadra io preferisco giocare contro i migliori ma gestionare di una migliore europa league è come un sotteggio di champions allora per me va benissimo se vogliamo anche diciamo vincere europa league dobbiamo battere lo stesso allora prendiamo adesso più tardi in teoria è uguale è un grande partita che che da grande stimolo pure a noi calcio e siamo in undici sul campo e undici o anche un po di più fuori il campo cioè si vince si perde in ma al cento per cento cioè su quello io mai ho avuto dubbi la nostra stimolo la nostra voglia di tornare a vincere le partite di calcio cioè su quello non c'è nessun dubbio la partita di spezia il derby e non sono stati i nostri livelli il nostro livello allora dobbiamo tornare e stiamo lavorando su quello però con serenità cioè non è che dobbiamo inventare qualcosa no sappiamo il nostro livello sappiamo dove siamo forti dove siamo meno forti dove dobbiamo lavorare ancora di più e facciamo i nostri lavori sereni ogni giorno e poi andiamo domenica